Oggi guarderemo un pochino insieme, soprattutto quelli che sono strumenti, però più banche dati, siti utili a rispondere alle vostre esigenze di ricercatori. Nei prossimi incontri invece andremo un po' nello specifico a parlare per lo più di dati, di dati aperti della ricerca. Diciamo che vorrei partire un po' sui vantaggi che può dare una pubblicazione open access, pubblicare in accesso aperto. I vantaggi, come sapete, sono molteplici, esistono anche molti miti da sfatare relativamente all'open access, però personalmente ritengo che uno dei vantaggi di una pubblicazione open access possa avere delle ricadute proprio nella nostra quotidianità. Non tantissimo tempo fa, ieri, Sara, mia moglie, mi dice appunto che... Allora, se avevo letto quell'articolo che è appunto di questa ricerca americana, in cui praticamente si diceva che l'essere pessimisti produceva l'Alzheimer. Io, anche Sara è una biologa, era un po' dubbiosa, però ecco, in un certo senso ieri mi sono messo un po' a cercare di capire, di optare questa notizia e scopro che sarà letto non una notizia di un articolo, ma un tweet comparso in questi giorni di questa notizia che poi ho cercato in un certo senso di rintracciare e ho trovato che appunto questo tweet riprendeva... Ho dovuto omettere purtroppo le indicazioni, diciamo, delle fonti per evitare, diciamo, magari spiacevoli situazioni. In ogni caso è un noto blog, diciamo, di divulgazione, appunto la pubblicazione è stata pubblicata ieri, dove appunto già cambia un pochino perché il tweet parlava di pessimismo, qui parla già di pensiero negativo. Cita uno studio di ricercatori di Londra, ma non riesco a trovare praticamente lo studio perché cita a sua volta invece questo articolo uscito su redazione Ok Salute, sempre l'8 di giugno, qui l'altro ieri, dove appunto comincia a dire che il pessimismo è un fattore di rischio per la demenza. In realtà poi, andando a leggere questo blog, vediamo che fa riferimento poi ad una, come dire, ad un importante studio supporto all'Università di Harvard, quindi non più ricercatori di Londra. Cerco l'articolo e anche in questo caso mi viene portato su un altro articolo ripreso da un noto telegiornale, diciamo, a livello nazionale, che riporta però di nuovo, come dire, lo studio del University College of London, che a sua volta riprende questo studio, sono sempre autori diversi naturalmente, di salute e benessere, dove per la prima volta interviene l'idea del pensiero negativo ripetitivo, che è una cosa, non solo un rispetto ovviamente, ma è una cosa un po' diversa dal pessimismo, e riprende questo, tal quale questo articolo, è fatta una traduzione di questo articolo pubblicato sul Mad Page Today, sempre l'altro ieri, di un altro autore, appunto di tal Judy George, che riprende a sua volta questo articolo uscito su Mad Nights, Long Term Care News, che, citando l'autore di questo articolo, riesce finalmente a proporre anche il link allo studio. Vado sullo studio e non riesco a leggerlo, perché non è in Open Access. Cerco di capire come poter entrare nello specifico a leggere questo articolo, vado sul sito di Alzheimer e Demenza, che è la rivista, con un altro impact factor di Wiley, che ha pubblicato questo articolo, e scopro che devo pagare 239 euro per poter leggere questo articolo, che naturalmente, come nei sei gradi di separazione, è un po' cambiato nel corso della sua storia, nel corso dell'interpretazione che ogni autore ha fatto di un articolo ripreso da altri autori. Poi, di fatto, oggi ho visto che l'articolo è in Open Access, perché gli autori hanno, forse anche dato il grande successo divulgativo che ha avuto l'articolo, hanno dato l'opzione per poter rendere Open all'interno di una rivista che è appunto una rivista ibrida, che ha accesso a terzo e ibrido, però pagando, di fatto, una cifra. Come potete vedere, per avere l'Open Access in questa rivista si aggira intorno ai 1.800 euro. Tra i notevoli vantaggi che secondo me può avere e ha l'Open Access, sicuramente quello di poter avvicinare l'obbligione pubblica alla ricerca è per me, e non solo per me, molto importante, considerando che se andiamo a vedere l'agenda della Commissione Europea per l'agenda 2030 sugli obiettivi di sostenibilità, si parla di fare una scienza non solo per i cittadini, ma con i cittadini. Infatti le discussioni più importanti, più significative che si hanno in queste settimane è appunto questo passaggio, in realtà questa evoluzione dell'Open Science verso addirittura un'inclusive science, cioè una scienza che sia condivisa, fatta insieme all'opinione pubblica, con l'opinione pubblica. Ovviamente l'Open Access ha molti più vantaggi, non è questo l'unico vantaggio, abbiamo più citazioni, perché le idee naturalmente circolano prima e circolano di più, abbiamo un 18% in media di maggiore esposizione citazionale degli articoli ad accesso aperto. C'è una maggiore rapidità, quindi anche della stessa conoscenza, legata anche alla possibilità, soprattutto con tutto l'indotto, e farlo degli Open Data, la possibilità di agganciare varie formule e vari formati che poi vedremo adesso di accesso aperto a operazioni di data mining e text mining che appunto estraggono, sono queste macchine che estraggono i dati e che secondo me rappresentano la base per un possibile futuro diciamo dell'editoria scientifico accademica. Le riviste Open Access diversamente da quelle non ad accesso aperto pubblicano naturalmente anche i risultati negativi che potrebbero essere risultati negativi e inutili allo stato attuale ma verificarsi invece come importanti in futuro, dando naturalmente una maggiore spinta anche attraverso alla pubblicazione dei dati alla riproducibilità della ricerca e danno la possibilità anche di immaginare progetti di divulgazione, di terza missione, di public engagement diversi e più affidabili. Questo è l'esempio di un progetto in realtà appunto della Firenze University Press anche abbastanza diciamo di facile realizzazione perché ve lo faccio vedere perché abbiamo immaginato di di cedere a questa è una rivista di chimica ok di storia della chimica era questo un articolo che si presentava in un certo senso con una con una possibile importante indice di divulgazione ok potremmo definirlo così e insieme all'autore che è un autore italiano che ha pubblicato questo articolo secondo gli standard naturalmente molto elevati della rivista una rivista open access ed è una rivista open access perché lascia come dire non solo la risorsa praticamente in rete ma da anche il copyright all'autore non è il copyright né della Firenze University Press il copyright non è della rivista è dell'autore ed è secondo me non è la condizione come sapete non è condizione necessaria per un reale sviluppo del movimento dell'accesso aperto ma credo sia altamente consigliato come vedremo poi anche quando parteremo dopo di DOAJ una versione come vedete qui indicato educational una versione divulgativa di questo articolo è stata pubblicata all'interno di di all'interno di una rivista di cultura generale che appunto si chiama l'indiscreto che ha soprattutto qui in Toscana un numero molto elevato di lettori anche un articolo che ha circolato tantissimo che a sua volta ma sempre l'autore non come dire un giornalista o come dire un blogger l'autore coadiuato dalla redazione naturalmente dell'indiscreto ne ha fatto una versione un adattamento divulgativo mettendo naturalmente in maniera appropriata quelli che sono i riferimenti al riferimento all'articolo originale questa sperimentazione che sta andando comunque avanti appunto di scientific di discrezioni scientifiche fa sì che dalle statistiche noi vediamo che in realtà l'articolo discrettivo ha ricevuto moltissimi download moltissime visualizzazioni più citazioni rispetto agli altri articoli della rivista ma parliamo proprio dell'articolo originale dell'articolo in inglese scritto secondo gli standard piuttosto rigidi appunto di substanzia noi abbiamo come dire un lungo percorso e moltissimi strumenti per poter rendere la ricerca open access è chiaro che in questo momento noi valuteremo soprattutto la parte legata appunto alla pubblicazione con qualche leggerissima indicazione relativa anche alla scrittura però è chiaro che a mio modo la vera sfida sarà sulla disseminazione questo per evitare appunto di andare a pubblicare coerentemente e perfettamente in open access ma sul deserto di internet potremmo dire questi sono gli elementi tanto ecco per le slide saranno a vostra disposizione è una nota infografica di Kramer e Bosman che ci dà la possibilità di seguire passo passo tutti gli elementi e tutti i tool utili a rendere il più open possibile la nostra ricerca e le nostre pubblicazioni questa è la nota definizione di super per quanto riguarda l'open access che appunto è digitale è online è gratuita ed è libera da alcune restrizioni dettate dalla licenza ossia noi diamo diciamo il copyright agli autori anche perché di fatto tutti quanti voi a mio avviso avete pubblicato su riviste avete come dire fatto una cessione del vostro copyright quasi sempre alla rivista o al publisher come ad esempio nel caso di Azelier avreste comunque dovuto ricevere delle royalties sulla circolazione e sugli abbonamenti che vengono venduti da questi publisher io posso dire che da alcune indagini quasi mai ecco gli autori hanno ricevuto denaro in termini di diritti d'autore per la divulgazione e la vendita dei loro articoli è chiaro che è un sistema ricco di contraddizioni quello attuale perché è un po' come come dire voi chiedete finanziamenti pubblici per pubblicare la vostra ricerca per effettuare la vostra ricerca pubblicate la vostra ricerca siete voi a scriverla siete voi a fare la peer review siete voi ad adattarla alle linee guide editoriali in realtà è come praticamente come dire come pagare un conto salatissimo in un ristorante in cui voi siete in cucina preparate tutto ed è quindi il publisher semplicemente è il cameriere che porta le pietanze dalla cucina al tavolo ci sono tanti strumenti online non potremo mai vederli tutti oggi per poter fare ricerca di strumenti gratuiti per poter cercare articoli come nel caso dell'articolo in cui sono imbattuto sul pensiero negativo repetitivo e poter capire se quella risorsa ha una versione presente in accesso aperto sia il bottone dell'accesso aperto un paywall fanno praticamente la stessa identica cosa quindi prima di pagare un articolo per scaricarlo magari la vostra istituzione non è abbonata vi consiglio di consultare questi due database questa è un'altra bellissima piattaforma una benediziativa con sede a Berlino Science Open nata da un'idea legata soprattutto alla post publication peer review quindi all'idea che la ricerca non abbia conclusione quell'articolo non si conclude esclusivamente nel momento in cui metto un punto e lo invio ad una rivista ma nata già da penso più di dieci anni sicuramente in senso sono state la loro in autunno è stata una bellissima esperienza hanno tantissime risorse in accesso aperto e soprattutto l'ultimo loro diciamo prodotto è quello delle collection che lo trovo davvero come dire ormai per me fondamentale da un punto di vista diciamo di ricerca bibliografica perché gratuitamente un ricercatore ovviamente con un orchid di identità digitale riconosciuta come tale può creare una collezione creare una collezione può farla ad esempio anche un dipartimento della sub si potrebbe realizzare una collezione tematica o legata al dipartimento gratuitamente credo che le istituzioni paghino comunque una quota ma bassissima annuale di gestione in ogni caso si può realizzare una collezione ne esistono tantissime e come dire ci sono gli editor di questa collezione in questo caso abbiamo appunto Jean Tenant che purtroppo è deceduto recentemente per un incidente stradale a Bali sono comunque persone che si occupano di open research ed open science possono praticamente quindi raggruppare un punto di raggruppare la ricerca bibliografica è importante che è ritenuta importante da questi editor all'interno di questa collezione un utente qualsiasi può iscriversi a questa collezione e ricevere ad esempio degli aggiornamenti relativamente a un come dire un'immissione ad esempio di un nuovo articolo e soprattutto gli editor di questa collezione possono invitare colleghi a fare revisioni di articoli già pubblicati quindi oltre ad essere una piattaforma che mette a disposizione risorse open dà la possibilità anche di personalizzare e realizzare quasi dei mini siti bibliografici bibliografici a un singolo ricercatore sono tanti dicevo gli strumenti per poter cercare articoli in open access questo è un è un è un elenco che come dire riporta sia science open che il bottone su accesso aperto c'è anche qualcosa che c'è science open vedremo anche adesso ad OJ ed è praticamente l'infografica che ho citato ormai un po' di tempo fa su twitter subito ricevuto diciamo oltre che una quantità indescrivibile di condivisioni ma soprattutto diversi diversi come dire commenti come quello che vedete in cui mi veniva chiesto come mai non c'è il famoso hub perché è illegale perché naturalmente in momenti in cui utilizzate sia per ricercare articoli o libri in accesso aperto in realtà sta scaricando illegalmente del materiale protetto da copyright mentre diciamo le risorse che vi segnalo qui sono tutte risorse libere e legali un'altra risorsa molto utile a mio avviso è un progetto della diciamo dell'arber di university legato a Spark Europe di OpenSupro di mano a cui ho collaborato per quasi due anni è appunto l'open access tracking project ve lo faccio vedere rapidamente si tratta praticamente di un hub di un grande aggregatore si tratta di chiunque può partecipare come tuggers volontariamente il corso lo fa proprio Peter Schuber che ho avuto il valore di conoscere e mi ha formato a utilizzare il database e in pratica è un database che rastrella tutto a travesse punto volontario avevo una responsabilità per quanto riguarda la Spagna l'Italia e parte dell'Unghilterra inserendo all'interno di questa enorme banca dati tutti gli elementi relativi al mondo dell'open access dell'open science e delle risorse educative aperte in generale ed è il database che dovete utilizzare di fatto per avere un'informazione veloce in diretta su quello che viene pubblicato oggi nel mondo relativamente su degli argomenti che vengono classificati con tag in pratica taggers il lavoro che ho fatto io per loro era utilizzare tutti i miei contatti strumenti per conoscere le risorse messe e i tool messe a disposizione e poi in base alla caratteristica di quella risorsa di quell'articolo di quel database di quell'iniziativa fare taggare la risorsa in maniera tale che oggi se voi volete ad esempio conoscere le risorse che abbiano come dire questo tag sull'open sulla peer review vi trovate qui vi trovate qui a poter accedere alla risorsa può essere un articolo di ricerca ma può essere anche una notizia un comunicato stampa e ovviamente con la possibilità di poter incrociare più tag siccome ultimamente mi sto occupando di ad esempio di intelligenza artificiale legata ai processi di revisione trappari tutte le notizie che come dire che mi servono per questa ricerca le cerco innanzitutto su questo aggregatore e immetto ovviamente le notizie che di cui sono in possesso e che non trovo all'interno dell'OMATP come sapete le strade di open access sono principalmente due la via verde la green road che passa attraverso l'autoarchiviazione del proprio articolo all'interno di un archivio istituzionale e poi la golden road che passa attraverso la pubblicazione di articoli su riviste direttamente ad accesso aperto un po' di pubblicità all'Università di Firenze alla FUP intermezzo Flore è il nostro archivio istituzionale si poggia su Iris che è appunto la banca dati a cui partecipano la maggior parte degli istituti universitari italiani e è naturalmente un archivio open access dove è possibile depositare contributi su rivista contributi su volume atti di convegno di ricurateri e brevetti la via aurea invece è rappresentata naturalmente da Firenze di diversi di press e dalle nostre riviste ma siamo a quasi 50 riviste open access e sono tutte naturalmente ad accesso aperto con una licenza in creative commons attribution quindi nella maniera più open possibile per pubblicare un articolo in open access questo di John potrebbe essere il flusso da tenere a mente e quindi se si conosce una rivista open access verificare innanzitutto ora lo vedremo su DOAJ su ThinkCheck Summit se è realmente una rivista open access in tal caso pubblicare se invece non si conosce una rivista gratuita quindi senza pc è necessario pagare per pubblicare l'articolo allora verificare innanzitutto se c'è un finanziamento possibile generalmente con il proprio studio bibliotecario per pubblicare su questa rivista se invece non ci sono fondi a disposizione allora vedere se è possibile comunque sono passaggi adesso guarderemo in dettaglio se è possibile verificare su Sherpa Romeo e vedere se si può depositare il post print ossia l'ultima versione del lavoro quello con le revisioni da parte dei riferiti se questo non è possibile allora vedere se almeno l'editore dà la possibilità di pubblicare la versione preprint quella diciamo senza le revisioni formali da parte del publisher e se neanche questo è possibile forse come dire è il caso di cambiare e scegliere un'altra rivista per sviluppare per realizzare la green road dell'accesso aperto naturalmente la prima cosa da fare nel momento in cui si è in possesso di un articolo pubblicato con una rivista è controllare su questo database che adesso è in fase di aggiornamento Sherpa Romeo se come dire se l'editore ecco è in anagrafica e il colore che ha questo editore perché in base al colore di Sherpa Romeo è possibile capire cosa si può archiviare dove e quando vi faccio vedere rapidamente Sherpa Romeo posso mettere il nome di una rivista o anche direttamente di un publisher e come vedete la Firenze è citata come editore verde e quindi se hai pubblicato di fatto con la Firenze University Press puoi archiviare sia la versione preprint o quindi quella diciamo precedente ai commenti dei revisori sia quella con i commenti dei revisori sia addirittura la versione diciamo publisher version la versione impaginata dell'articolo se invece cerchiamo abbiamo pubblicato con il mulino vedete che il mulino è considerato come editore giallo quindi noi possiamo archiviare soltanto la versione preprint quella precedente anche agli eventuali commenti dei reviewer insieme a Romeo naturalmente non poteva mancare Giulietta che è la banca dati appunto che riporta l'elenco di tutte le istituzioni e gli enti di ricerca e che finanziano di fatto l'accesso aperto e che naturalmente finanziano l'accesso aperto in base ad alcune condizioni potremmo cercare all'interno di Giulietta ad esempio vediamo se c'è il studio superiore della sanità o comunque eccolo e ovviamente abbiamo tutte le indicazioni se si hanno proprio una come dire una polisi chiara sulla pubblicazione polisi generiche o comunque possibilità anche di embargo o meno la linea verde la via verde può essere come dicevamo nel caso di flore del nostro archivio istituzionale esiste appunto anche un elenco globale di archivi che ci è saperto che sono mantenuti da università e studi di ricerca e siccome so che state realizzando un vostro archivio per il deposito istituzionale potrebbe essere come dire utile fare anche un'indagine per comprendere quelle che sono diciamo quelle che sono le caratteristiche dei vari archivi con delle schede naturalmente legate anche a chi può immettere chi può depositare un articolo chi invece magari o che tipologia di materiale è possibile depositare eventuali embargo eccetera un altro modo diciamo per poter pubblicare open access in caso in cui non potete l'editore non vi dà la possibilità di depositare nessuna delle versioni anche perché non sono rari i casi in cui un publisher chieda anche una somma di denaro all'autore per autorizzarlo a mettere sull'archivio istituzionale della propria università o del proprio istituto la versione preprint potete sicuramente fare riferimento a Open Science Framework che è un server di preprint parliamo praticamente di articoli che in molti casi non hanno ancora un publisher non hanno ancora un editore oppure non sono stati ancora sottoposti ad alcuna procedura di referaggio ma sono esclusivamente il frutto di una prima collaborazione spesso sono anche articoli non completamente diciamo scritti ecco anche magari micro articoli come in molti casi avviene qui questa è una buona banca dati sia per poter fare ricerca praticamente di preprint come nel caso ecco di questo articolo di architettura di questo preprint di architettura che ovviamente a cui ovviamente è stato anche già come vedete non ha un layout editoriale scusatemi è diciamo ancora un articolo senza editore ha però tutti gli elementi utili alla pubblicazione e alla repitabilità sia già un abstract ha già un doi che eventualmente sarà poi inserito nella pubblicazione finale il publisher del pdf della versione definitiva ovviamente non ha una licenza perché non è pubblicato ma porta con sé la licenza di open science del server una serie di tag in più anche un tool citazionale dove naturalmente si fa riferimento al preprint è chiaro che in questo caso la procedura che potreste semplicemente adottare è quella di iscrivervi naturalmente a questo servizio che vi chiederà un identificativo ORCID per poter inserire il vostro preprint che è chiaramente già citabile ricercabile una volta inserito un preprint non si può cancellare lo potete soltanto aggiornare quindi come dire resterà la storia delle versioni di questo articolo è chiaro come dire che si diceva anche prima di iniziare stiamo assistendo ad una come dire ad uno spostamento dell'attenzione forse soltanto i sistemi valutativi sono rimasti ancora ancorati a quello che alla versione dell'articolo editoriale che è invece una sorta di surrogato di un processo che è molto più ampio e anche molto più complesso l'articolo è uno screenshot di un processo più lungo e si sta spostando l'attenzione invece sui processi quindi sui dati di ricerca sui preprint che come avrete avuto modo sicuramente di leggere anche sono state una risorsa fondamentale in questo momento in questo periodo di emergenza perché non si potevano aspettare non si potevano attendere i lunghissimi tempi di pubblicazione era necessario mettere a disposizione i dati legati diciamo a indagini epidemiologiche i più velocemente e più in fretta possibile ed è ovvio che dall'altra parte bisogna poi considerare che sono anche degli articoli non sottoposti ad una procedura di revisione tra pari e quindi da prendere con le dovute precauzioni tra un preprint come dire vero e proprio quindi inviato direttamente su una di queste piattaforme esiste anche la possibilità ad esempio di fare quello che abbiamo sperimentato noi in FUP ossia il Just Accepted cioè noi abbiamo vi faccio vedere noi abbiamo praticamente lanciato in occasione della diciamo dell'emergenza con circa 30 riviste abbiamo avuto praticamente quasi come una sorta di impegno civico di volontà forte di voler contribuire in qualche maniera a comprendere la situazione assurda che abbiamo vissuto e che stiamo ancora in parte vivendo lanciando una serie di tematiche sul Covid 19 ovviamente noi avendo delle riviste appartenenti a più ampi disciplinari dall'architettura alla pedagogia alla chimica alla fitopatologia alla medicina ci siamo ritrovati con un progetto nato inizialmente uno a uno cioè in singole riviste in un progetto invece più ampio che ha poi fatto sì che le riviste in un certo senso si unissero tra loro nel lanciare queste call for papers ed è infatti vi faccio vedere questa è la pagina dove abbiamo pubblicato tutte le call abbiamo praticamente dall'architettura alle questioni di genere sociologia sulla media education fino anche a riviste di storia riviste di pedagogia riviste di letteratura ed era chiaro che noi non potevamo con queste call for papers attendere la realizzazione dei cicli hobby standard di pubblicazione ma abbiamo dovuto dare una spinta e abbiamo immaginato praticamente di spingere le riviste a utilizzare delle forme più veloci di peer review per andare a pubblicare i cosiddetti just accepted ossia la versione non ancora impaginata di un articolo che però in questo caso è stato accettato dalla rivista è stato sottoposto a tutte le come dire le considerazioni delle visioni editoriali da parte dei reviewer e poi è stato pubblicato però in una forma come potete vedere senza editing senza type setting ma ha un AMSAT ha un DOI ed è già citabile ovviamente questi articoli poi saranno sottoposti ad una procedura di impaginazione secondo i layout editoriali della rivista e abbiamo visto che questo è stato uno strumento che ha portato in giro di pochissimo tempo a ricevere una quantità davvero considerevole di articoli e credo anche che si tratterà probabilmente adesso quasi di una stiamo immaginando di standardizzare questo processo per evitare che un articolo resti di fatto sul computer del redattore o del layout editor magari quei due mesi necessari spesso alla realizzazione di un fascicolo come scegliere una rivista open access come Yolanda diceva all'inizio sono associate editor dei DOAJ di fatto faccio parte del gruppo per l'Italia di coloro che vanno a revisionare ecco le domande da parte delle riviste di entrare in questa directory è chiaro che una rivista open access che non è oggi in DOAJ pur avendone i requisiti anagrafici forse non è propriamente una rivista ad accesso aperto open access DOAJ ci dimostra anche come dire che esistono tanti miti intorno all'open access uno dei quali che ad esempio su tutte le riviste ad accesso aperto si paga per pubblicare posso garantirvi che ad esempio per quanto riguarda le riviste della CUP su 50 riviste sono 10 ecco le riviste che chiedono delle APC ovviamente detto francamente le riviste che chiedono un APC chiedono un contributo all'autore ma sono contributi che servono esclusivamente a mantenere a dare sostenibilità economica al modello della rivista cioè io ho riviste come Tecne che è una rivista di architettura che chiede credo 120 euro per la pubblicazione di un articolo o la mia rivista Ammiraglia che ha un impact factor alto una rivista internazionale di fitofatologia mediterranea chiede 500 euro che sono davvero i costi che ha la rivista per esclusivamente di gestione anche se so che l'incontro è registrato però sono stato circa quattro mesi fa ad un incontro con gli editor della Royal Society le riviste di timica arrivano praticamente anche a o come prezzo di pubblicazione per un autore a circa 3.000 4.000 euro c'era una sala grinita ha alzato la mano e chiesto ma voglio capire per quale motivo un articolo su Chemcom costa ad un autore in open access 3.000 euro 3.500 euro non mi hanno risposto c'è una risposta molto vaga poi ho chiesto di nuovo volevo una risposta e la risposta è stata noi i profitti che facciamo da questi APC li reinvestiamo e finanziamo dei progetti di ricerca quindi è stata una risposta abbastanza vaga è vero che una piattaforma della Royal Society di ACS come dire dà dei servizi importanti che la FUP non riuscirà mai a dare però loro producono un PDF e noi produciamo un PDF non abbiamo come dire prodotti industriali completamente diversi ed è chiaro che più andiamo a ritroso a scoprire a mettere luce sui processi che troviamo prima della semplice e finale pubblicazione dell'articolo è chiaro che naturalmente immagini di distanza tra un preprint della FUP e un preprint di ACS inevitabilmente si riducono e questo è un motivo per cui nel 19 per la prima volta alcune riviste da Taylor e Francis e da Xavier sono passate alla FUP io posso dirvi che un articolo che l'APC di un articolo pubblicato su una rivista della Royal Society costa quasi quanto un intero fascicolo pubblicato dalla FUP quindi un semestrale in open access come può essere un'acta petologica come costi di produzione stiamo mediamente intorno ai 3.000 4.000 euro a fascicolo con servizi standard in DOJ sfatiamo uno dei miti che è appunto quello che tutte le riviste open access chiedono pagamenti infatti vediamo che delle circa 14.000 15.000 riviste indicizzate in DOJ soltanto 4.000 chiedono come dire un contributo agli autori per la pubblicazione di queste 4.000 riviste moltissime hanno delle waiver policy per giovani ricercatori o per coloro che provengono da paesi in via di sviluppo la maggior parte delle riviste censiche da DOJ non chiedono alcun pagamento per pubblicare naturalmente qui è il primo punto quindi partendo naturalmente dalla banca dati dalla suddivisione della banca dati per argomenti per subject per sigillo appunto che è un sigillo di qualità riviste che sono particolarmente open e come dire hanno adottato elevati standard di best practice editoriali naturalmente poi per paese per editore per data di aggiornamento un altro sito utile alla come dire alla ricerca di una buona rivista open access è Shimago che è un tool in questo caso powered by Scopus quindi in Shimago troverete riviste indicizzate in Scopus sapete che Scopus è un pacchetto commerciale di Elsevier però di fatto ha aumentato ha stretto di più le maglie della valutazione e oggi è sempre più difficile riuscire a inserire nel loro database una rivista rivista open access che poi in realtà Elsevier prende e inserisce all'interno del proprio pacchetto commerciale Scopus che come sapete vende poi in giro alle istituzioni del mondo quindi in un certo senso sì Elsevier vende le riviste che sono ad accesso aperto potete fare ovviamente una ricerca per per rivista cosa vi sta sbagliato a scrivere è la rivista di la della FUP che dovrebbe essere indicizzata in Scopus e vi mette a disposizione quello che è l'H index che è proprio un indice tipo l'impact factor ma con un algoritmo leggermente diverso e poi avete la possibilità ovviamente anche di poter confrontare tra loro riviste per area disciplinare ma ma anche per soggetto paese e regione ovviamente misurando quello che poi l'indice appunto che ha scopus di impatto della rivista come sapete spesso un altro mito da sfatare mi trovo spesso a sfatare quello recato alle riviste predatorie non c'entrano assolutamente nulla con le riviste open access si può immaginare di poter essere in un certo senso da frodi come queste vi garantisco che non è semplice perché anche a me è parlato di cadere in una rivista predatoria perché non è semplice individuare praticamente la cattiva la materia di questi editor di questi publisher in questo caso ad esempio è una classica email inviata ad uno dei direttori tra l'altro scientifici di una delle mie riviste in cui questa compagnia editoriale chiede di o voler tradurre in inglese un articolo in italiano che va scritto su un'altra rivista e in realtà il punto è che fortunatamente Roberto mi ha scritto subito però in ogni caso loro non è facile identificare una rivista predatoria perché poi di fatto di fanno fare una proposta una submission attraverso una banca dati un sistema si flaggano dei consensi e poi in uno di quelli c'è scritto che appunto alla pubblicazione dell'articolo arriverà poi una bella fattura per il servizio di pubblicazione che però non è stato chiarito fin dall'inizio a quel punto poi è difficile non 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 pagarli è talmente a volte complesso capire se un publisher è una un predatory publisher che come dire ci sono attivati dei tool in rete e questi possono essere gli elementi che dimostrano come dire campanelli d'allarme ecco per una per una rivista predatoria in ogni caso c'è questo strumento in rete che si chiama think check summit esiste in tutte le lingue dove appunto è una sorta di checklist che da seguire prima di inviare un articolo ad una rivista quindi diciamo porsi ecco di fatto queste domande controllare se ad esempio ci sono colleghi che hanno pubblicato o meno su questa rivista se si può contattare ad esempio facilmente l'editore se ci sono sono indicate le procedure di revisione tra pari se ad esempio è in DOAJ e via dicendo e poi praticamente se si risponde la maggior parte di queste domande allora praticamente si può inviare l'articolo alla rivista in questione tutto il processo di pubblicazione in ogni caso si ruota intorno ai principi indici ossia l'insieme di questi meccanismi di autoregolamentazione che spingono e insistono sull'integrità di autori reviewer e editor diciamo Alessandro sì c'era una mano alzata di Yolanda se volevi rispondere no in realtà stavo cercando adesso di comunicare ad Alessandro che sono le 17 27 per cui bisogna arrivare verso la chiusura così lasciamo almeno qualche minuto per le domande che l'interazione era complicata poi appunto stavamo seguendo a tutti allora magari se chiudi che così lasciamo almeno qualche minuto grazie perfetto allora ecco vado in chiusura tanto vi lascerò le slide questi sono gli elementi di qualità di una rivista quindi come deve essere un sito come deve essere esplicitato il processo di peer review governance copyright e sono naturalmente tutti gli elementi che dovete mettere in campo qualora decidiate di mettere in piedi una rivista o una piattaforma di pubblicazione un passaggio doveroso sui processi di revisione sapete che nella peer review appunto una procedura che permette di valutare e selezionare gli articoli migliorandone di fatto la qualità e verificandone l'idoneità alla pubblicazione o al finanziamento anche se sapete anche la maggior parte delle volte è un po' questa l'immagine che si ha invece del processo di referaggio ci sono diversi tipi di peer review non esiste solo la single e la double blind vi prego di aiutarmi a come dire a dissolvere questo dubbio che hanno moltissimi autori ed editor di considerare la peer review come un fine di un processo come dire io devo fare la double blind peer review devo fare la single blind peer review perché la peer review è solo uno strumento è uno strumento di miglioramento della qualità quindi che una rivista sia double blind e mandi al referaggio ma senza un vero problematica tra reviewer e articolo è completamente inutile c'era un passaggio su cosa valuta un revisore e quindi a cosa fare attenzione delle piattaforme nuove ad esempio su come la questa piattaforma nata pochissimo tempo fa che cerca di tracciare i cambiamenti delle procedure di referaggio o reviewer credits di cui ho già parlato quando sono venuto su e che si sta evolvendo adesso da dei veri e propri benefit a chi fa delle revisioni ultimamente ad esempio si sta stanno lavorando come dire chi fa una revisione contribuisce anche a progetti di sviluppo eco o sostenibile vado in conclusione dicendo questo all'inizio della presentazione parlavo appunto dell'ultima fase della disseminazione perché quello che sto notando degli autori delle riviste della FUP o comunque più in generale è che c'è un problema legato alle caratteristiche della pubblicazione cioè non basta soltanto depositare e sfruttare diciamo i tool che i vari progetti internazionali mettono a disposizione se poi magari io quell'articolo o quel preprint ho scelto un titolo per quell'articolo non adatto cioè non adatto ai motori di ricerca e agli algoritmi dei motori di ricerca di Google Scholar o di Scopus o di DoAJ oppure non ho badato all'architettura dell'abstract ai tag presenti all'interno dell'abstract o spesso ad esempio un errore molto comune è quello di utilizzare delle keywords scontate architettura come keywords in un articolo che come dire su una rivista di architettura e quindi credo che lo sforzo uno sforzo importante possa essere quello di debba essere quello di anche migliorare la qualità dei metadati degli articoli come si scrive il titolo di una rivista di un articolo come si scrive in hamster come si scrivono i keywords qual è l'organizzazione della bibliografia perché altrimenti sarà sempre complessa la reperibilità dei vostri prodotti di ricerca io più o meno mi fermerei qui io benissimo grazie mille Alessandro e adesso magari se c'è qualche domanda se vogliamo aprire vedo che gli argomenti sono stati affrontati in modo molto esaustivo e molto ricco io avrei una domanda scusa sulla slide che è abbastanza complesso tra gold e green se puoi magari dire qualche parola su questa slide perché mi sembra molto ricca di contenuto ma forse molto scontato per te sì forse ok interromperti sì no no in ogni caso come dire questa è innanzitutto è una pubblicazione che potete scaricare liberamente da questo link è una pubblicazione open access ed è una pubblicazione in cui c'è tra l'altro anche un mio contributo dove mi occupo su come puoi far girare questa roba in accesso aperto l'open access si come dire si esprime in queste due maniere cioè o pubblichiamo su articoli direttamente su riviste open access quindi come una rivista della Firenze University Press oppure depositiamo una versione di quest'articolo ovviamente precedente a quella finale sul nostro archivio istituzionale cioè se io di fatto un mio articolo lo pubblico sull'archivio che state mettendo in piedi come istituto di fatto ho realizzato pienamente l'open access è valido anche per i finanziamenti ecco della commissione europea che come sapete chiede ad esempio che la pubblicazione sia in open access se il deposito su un archivio istituzionale come quindi un autore del messaggio di Firenze fa in flore è di fatto una vera e propria pubblicazione a tutti gli effetti in accesso a posto è di fatto che è di fatto è di fatto